Ciao e benvenuti su Ideare Casa. Siamo in questo angolo cottura che oggi monteremo, è una composizione angolare con una particolarità. L'impianto acqua non si trova alle spalle delle basi della cucina ma si trova lateralmente, quindi faremo una lavorazione per poter accedere all'acqua. I fori di carico e scarico acqua sono stati effettuati sul fianco sinistro della base lamello. Questi fori sono anche stati siliconati a protezione. I cassetti e il cestone hanno le guide rallentate di serie. Il montaggio è terminato. La nostra cucina è in bicolore, in bianco opaco ed in rosso lucido. La cliente ha preferito due zone di colore, una nella zona lamello e una nella parte alta della colonna forno. Gli elettrodomestici utilizzati sono della Foster, si abbiano cottura, forno e lavastoviglie. È realizzata in pannello ecologico, a basso contenuto di formaldeide e ha uno spessore di top di 4 cm, anche in sedore gallente. Per tutte le info sulle nostre cucine su misura, visitate il nostro sito www.dearicasa.com e i nostri canali social Facebook e Google+. Ciao e al prossimo video! Ciao! 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 Grazie a tutti.